prima del collegamento col grande ex dobbiamo recuperare tre foto che non abbiamo mostrato in precedenza questo è un Bari-Livorno 1-0 gol di Denardi proprio al novantesimo stagione credo 67-68 67-68 è giusto? al novantunesimo poi c'è Bari-Livorno 2-1 19 gennaio 69 intervento del portiere Bellinelli su Tonoli e poi infine il gol di Borghese che gira di testa il pallone dell'1-0 praticamente noi non vincevamo da diverso tempo in casa tieni presente che noi non vinciamo in casa dalla partita con Novara perché poi abbiamo fatto le due partite cioè la partita con con il Latina e poi la partita con il Perugia ci siamo sbloccati con Livorno con Livorno ci siamo sbloccati ed è stata una rete decisiva dopo 370 giorni che non vincevamo al San Nicola allora ora naturalmente il tempo è più limitato però manca manca dal mese di dal fine maggio la vittoria a casa quindi abbiamo giugno, luglio, agosto e questo è settembre io mi sentirei tranquillo domani se in campo ci fosse Igor Protti che in verità ha peso le scarpette al chiodo mi ricordo quello che a me è rimasto ancora più impresso è quel famoso gol alla Cremonese la rovesciata no, quello che cade e si rialza cade e si rialza tira e fa gol beh è stata la sigla del Tibisport per tanti anni questa beh avete capito che Igor Protti lo abbiamo in diretta oggi al Tibisport ciao Igor, buon pomeriggio ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti c'è il professore Antanucci che ti saluta salve professore buon pomeriggio a lei ciao, ciao Igor sei sempre migliore per me e tu lo sai quello che ti dissi quando noi apprendemmo Platt e tu fossi così corretto con me che mi dicessi una frase che mi fece piacere io dissi Igor se fossi venuto insieme con Platt saremmo rimasti anni interi in Serie A e tu mi dicessi se me lo dice lei sono convinto che poteva essere così che ne dici tu a distanza di 25 anni? beh chissà chissà è chiaro che io anche se sono arrivato un po' in ritardo perché sarei dovuto arrivare a Bari qualche mese prima a gennaio dell'anno precedente quando il Bari è in Serie A però diciamo che invece che rimpiange il fatto di non essere arrivato sei mesi prima sono onorato e orgoglioso di aver avuto la possibilità di stare quattro anni in questa città e indossare questa maglia per quattro anni fra pochi giorni 24 compi 47 anni correggimi se sbaglio giusto? sì esatto giusto 47 anni fra pochi giorni ti facciamo gli auguri ovviamente con nascevo scusami niente nascevo nell'anno in cui sentivo dicevate che Bari visse al 91esimo per una zero con gol di De Nardi esatto so che tu sei sempre molto combattuto perché Bari Livorno è come dire ventricolo destro contro ventricolo sinistro del cuore c'è un po' di tutto c'è un po' la tua storia in Bari Livorno è così o no? mi confermi che provi ancora queste grandi emozioni vedendo queste due squadre che hanno rappresentato una parte importante della tua vita confrontarsi? ma assolutamente sì ci tengo a precisare comunque sia che è anche dove sono stato poco io quando ho indossato una maglia l'ho fatto non come si indossa una magliettina per andare in spiaggia ma per me anche metterla una volta sola significava rappresentare una storia rappresentare una città rappresentare una tifoseria e quindi tutte le squadre nelle quali sono stato mi sono rimaste dentro e ho un bellissimo rapporto ovviamente quando si parla di Livorno e Bari a Livorno ci sono stati nove anni i primi 3H negli anni 80 e poi a fine anni 2000 a inizio anni 2000 a Bari sono stato quattro anni ovviamente sono rapporti indissolubili che resistono nel tempo di rispetto di stima reciproca credo perché ho la sensazione che la gente di Livorno e di Bari abbiano lo stesso affetto che io provo per Gorno e mi compro qui stiamo vedendo le immagini della tua presentazione c'è Carlo Regalia con una giacca gessata e c'è Nuccio Barone fosti presentato con Nuccio Barone al Bari ti vediamo col capello proprio ragazzino proprio Nuccio Barone è stato il mio ultimo compagno di stanza a ultimo compagno di stanza e qui vediamo Vincenzo Matarrese che vi presenta al San Nicola bisogna dire che sei stato idolo anche a Messina insomma abbiamo dimenticato Messina che è un'altra pazza importante hai segnato un gol che rimarrà per sempre nella storia della Lazio in un derby contro la Roma come dicevi tu insomma dove sei passato e lasciato comunque il segno ma quanto ti sarebbe piaciuto io quando guarda ti faccio una confessione lo scorso anno in quegli ultimi tre mesi fantastici del campionato del Bari il periodo della cosiddetta rimonta che ha portato il Bari ho detto guarda ci fosse stato anche Protti in questo contesto sarebbe stato un delirio perché io ti vedevo ti vedevo proprio calato nella realtà della squadra dello scorso anno questa squadra che giocava come se fossero tifosi con la maglia del Bari e tu lo sei stato per eccellenza un tifoso con la maglia del Bari sarebbe stato e ovviamente sarebbe un mio grande piacere è inutile nasconderlo non so se questo potrà un giorno un giorno accadere ovviamente dipende da me e credo che comunque ci sia una situazione molto particolare c'è una nuova società che ha un grande onore e credo anche un grande onere perché la città ha risposto in maniera incredibile nei confronti di questa nuova situazione e quindi questo significa grandi responsabilità grandi responsabilità significa anche non disperdere un patrimonio come quello della tifoseria Il tuo nome è stato associato a questo Bari con un ruolo che non si capiva esattamente quale potesse essere a lungo inutile nasconderlo si parlava di te e di Tuvalieri nell'orbita anche di questa nuova società perché poi non si è fatto più nulla siete stati mai contattati sei stato mai contattato assolutamente no no assolutamente no non ho mai ricevuto una telefonata dalla nuova società quindi no per quanto mi riguarda non si è fatto nulla perché nessuno l'ha mai chiamato quindi al di là del fatto che fossero uscite notizie no quindi va beh va beh Igor parliamo di cose extra calcistiche come va Nicolò bene bene Nicolò benissimo grazie tutto a posto è grande è nato proprio negli anni in cui io ero a Bari nel 93 ora 21 anni quindi figuriamoci penso che io conservo delle fotografie con tua moglie e con lui piccolino che fa i primi pass eh sì eh sì va bene Igor è inutile dirti è inutile dirti che insomma noi desidereremo davvero che di averti così a portata di mano ogni giorno noi intanto ci sentiamo però insomma rivederti a Bari sarebbe sarebbe piacevolissimo e sarebbe avrebbe un significato simbolico molto forte per tutti per tutti noi come dire la speranza è l'ultima a morire perché no un abbraccio forte a presto ti manderò il DVD di questa trasmissione personale come non ho sentito chiedo scusa ti manderà Gianni il DVD della trasmissione grazie grazie a livello personale va bene grazie Igor Protti il grande Igor Protti il grande Igor Protti va bene Igor Protti probabilmente fa parte della storia del Bari che tu hai riassunto in un DVD che oggi 19.30 corregimi se sbaglio presenterà la Fiera del Levante qui ci dai una chicca un minuto il minuto iniziale è l'inizio perché tutto sommato noi abbiamo pensato di poterlo ultimare dopo la Fiera del Levante perché ci sono state le manifestazioni che vorremmo inserire dentro e se per piacere ecco Gianni Antonucci presenta io l'ho fatto per conto della Bari Siamo Noi che è diretta ed è presieduta da Franco Spagnolo ed è una cosa che non so penso potrà far piacere anche perché gran parte è stata presa dal mio primo DVD in occasione dei 100 anni mentre al Teatro Petruzzelli andava in scena la traviata di Verdi un gruppo di giovani chi baresi chi oriundi ma operanti in città nella retrobottega di un negozio all'angolo di Corso Vittorio Emanuele e via Roberto da Bari pondava il football club Bari principale promotore Floreano Ludwig assieme a tanti amici tutti più o meno ventenni ed anche più giovani Ludwig faceva il dirigente ed anche il portiere poi c'erano oltre a Ludwig Barter Bach Roth Attoma Labourdette Jovinet Giordano Gazagne Errandi E così comincia la storia quanto dura questo DVD? Quassi 50 minuti che accadrà? verrà venduto? come sarà possibile? questa è stata un'iniziativa da parte di Franco Spagnolo presidente della Bari Siamo Noi il nuovo coordinamento sarà distribuito a 5.000 tifosi che sono abbonati del Bari perché sai che molti abbonamenti sono anche in famiglia due o tre ha fatto fare 5.000 di questi e saranno tutti dati in omaggio uno lo mettiamo da parte per Francesco Di Pinerolo che non può partecipare certamente lo mettiamo da parte per lui e glielo facciamo per finire da Pinerolo fin qua va bene destinazione Pinerolo film di Totò destinazione Pinerolo ho fatto il militare no quella a Cunio era il militare di Totò no anche Pinerolo l'arbitro Daniele Minelli la partita di domani Daniele Minelli di Varese ecco Minelli di Varese è stato un arbitro che ha diretto soltanto una partita del Bari quella con l'Avellina dello scorso campionato quando segniamo all'ottantasentesimo con Gior Silva ma io vorrei ricordare ora un carissimo amico che non c'è più è l'Avvocato Vittorio Sbisà con lui abbiamo fatto tante volte in trasferta noi abbiamo fatto tutte le trasferte del Bari per circa 60 anni io ormai sono 77 anni che eseguo il Bari con Vittorio che aveva 10 anni meno di me era una comitiva formata dall'Avvocato Santino Amato dal notaio Polito dal compianto Michele Maffei andavamo sempre la domenica io certe volte per servizio e loro sempre da tifosi ma da tifosi seri senza fare smargianate come si dice che succede spesso come è successo la questione di Frosinone Vittorio è stato uno che addirittura ha fatto convertire anche a favore del Bari il famoso e compianto Lucio Dalla a quale noi eravamo legati proprio lui faceva il tifo per il Bologna e noi per il Bari però riuscimmo a farlo tifare Bari e tutte le volte che andavamo a giocare a Bologna lui ci ospitava a casa sua e Vittorio aveva anche con lui una vella alle Tremiti Vittorio ci mancherai ecco un abbraccio forte ovviamente alla famiglia una sola cosa volevo aggiungere intanto solo questo pallone per ricordarvi che da martedì ci sono i mondiali di pallavolo anche a Bari tutta Italia ma anche in alcune città italiane ma anche a Bari con un bel girone a sei squadre e quindi insomma seguiti questo sport parliamo di pallavolo femminile perché parliamo proprio del top in assoluto a livello mondiale intanto abbiamo dimenticato qualcosa ah c'è Vicenza a Bari anche martedì perché noi non andiamo in onda a meno che tu non vuoi andare in onda lunedì ma non credo allora facciamo uno straccio di Vicenza a Bari abbiamo 30 precedenti praticamente sono precedenti abbastanza numerosi abbiamo vinto sette volte a Vicenza nove pareggi quattordici le sconfitte venticinque insomma non è una situazione drammatica è tutt'altro però penso che ce la possiamo fare anche con questa volta magari meglio di di prosinone per l'intervista della Palavolo vi rimandiamo a martedì quando ovviamente comincerà il campionato vi mostreremo anche le interviste noi ringraziamo il professor Gianni Antonucci no io ringrazio voi che mi date la possibilità di far conoscere a giovani e meno giovani quello che è stato il Bari e il Bari spero che piacerà questo non niente di eccezionale il nostro DVD sul video di tutto i cento anni del Bari naturalmente noi l'abbiamo fatto in maniera artigianale vabbè ci sta l'abbiamo fatta col cuore la buona volontà e naturalmente sarà dato gratuitamente a chi loro le tue cose hanno sempre dalla Bari siamo noi le tue cose sul Bari hanno sempre funzionato alla prossima noi ci ritroviamo lunedì ciao 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 ciao